Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Si sta delineando anche sotto il profilo della mobilità l'edizione 2023 dell'Eprix, la Formula E con la penultima tappa del mondiale che quest'anno sarà di nuovo all'Eur il 15 e 16 di luglio. Su romamobilità.it ci sono tutte le modifiche alla viabilità previste per questo evento tra montaggio e smontaggio del circuito e naturalmente per la gara. Da domani sera previste le prime chiusure per l'allestimento della pista. La chiusura principale sarà quella della Colombo nel tratto dell'Eur nelle giornate del 14, 15 e 16 luglio.